Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva in ferma da diciotto anni. Era curva, non riusciva in alcun modo a stare dritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse, «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla, «Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare. In quelli dunque venite a farvi guarire, non in giorno di sabato». Il Signore gli replicò, «Ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla manciatoia per condurla ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben diciotto anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato? Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute». Parola del Signore. Glorie a te. Sialodato Gesù Cristo. Sialodato Gesù Cristo. Luca narra di Gesù che un sabato, come di consueto, era entrato nella sinagoga a insegnare. C'era là una donna che aveva da diciotto anni uno spirito che lo teneva in ferma, era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. E Gesù, senza che nessuno glielo chiedesse, mosso da compassione, la chiamò a sé e le disse «Donna, sei libera dalla tua infermità» e le impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Il capo della sinagoga si indignò perché Gesù guariva di sabato. La sua anima, gretta e meschina, non comprende la grandezza della misericordia divina che libera la donna sofferente da così lungo tempo. Con apparente zelo per l'osservanza del sabato prescritta dalla legge, il fariseo non sa vedere la gioia di Dio nel contemplare questa sua figlia risanata nell'anima e nel corpo. Il suo cuore, freddo e ottuso, privo di pietà, non sa penetrare nella vera realtà dei fatti, non vede il Messia lì presente che si rivela come colui del quale avevano profetizzato le scritture e non usando mormorare direttamente contro Gesù lo fa contro coloro che si avvicinano a Lui. Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi curare e non in giorno di sabato. E il Signore, come in altre occasioni, non rimane zitto. Li chiama ipocriti e falsi. Controbatte, raccogliendo l'allusione al lavoro, fa notare che, come essi si affrettavano a slegare dalla manciatoia il loro asino o bue per portarli ad abbeverarsi, ancorché di sabato, questa figlia di Abramo che Satana ha tenuto legata a 18 anni non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato. La donna dell'incontro con Cristo recupera la sua dignità. È trattata come figlia di Abramo, il suo valore ben superiore a quello del bue e dell'asino. I suoi avversari si vergognarono mentre la folla esultava per tutte le meraviglie compiute dal Signore. La donna si ritrovò libera dallo spirito maligno che la teneva incatenata dalla malattia del corpo. Ormai poteva guardare Gesù, poteva guardare il cielo e la gente e il mondo. Dobbiamo meditare molte volte i passi in cui si manifesta con singolare evidenza la misericordia compassionevole del Signore di cui abbiamo sempre e tanto bisogno. Gesù manifesta questa delicatezza e quest'affetto non solo a un piccolo gruppo di discepoli, ma a tutti, alle donne che lo seguivano, a un rappresentante del Sinedrio come Nicodemo, a un pubblicano come Zaccheo, a malati e a sani, a dottori della legge e a pagani, ai singoli e alle folle. I Vangeli ci dicono che aveva degli amici che amava e stimava, amici desiderosi di accoglierlo a casa. I Vangeli ci parlano anche della sua compassione verso gli infermi, del suo dolore verso i peccatori. La meditazione di queste scene evangeliche deve portarci a convidare di più in Gesù, specialmente quando ci vediamo più deboli nell'anima o nel corpo. Quando sperimentiamo la prepotente tendenza a guardare solo le cose materiali e terrene, deve suggerirci di imitarlo nel nostro rapporto con gli altri, di non essere mai indifferenti al dolore o alla disgrazia. Cerchiamo di essere simili al nostro Maestro che ha compassione e soccorre. Il Signore aveva trovato quella donna che da 18 anni era curva, non poteva di fatti alzarsi e tali sono quelli che hanno il cuore rivolto alla terra. Col passare del tempo perdono la capacità di guardare al cielo, di contemplare Dio e di vedere in Lui la meraviglia di tutto il creato. Chi è curvo guarda sempre la terra, chi è in basso non può pensare a qual prezzo fu redento. Dimentica che tutte le cose create devono condurla al cielo e contempla solo un universo immiserito. Il demonio per 18 anni impedì alla donna di volgere lo sguardo al cielo e poi fu guarito da Gesù. Altri, purtroppo, trascorrono l'intera vita guardando solo le cose della terra perché li tiene legati la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. La concupiscenza della carne impedisce di vedere Dio perché lo vedranno solo i puri di cuore. Questa tendenza cattiva non si limita soltanto al disordine della sensualità ma anche a quello della comodità che induce a cercare ciò che è più piacevole e più facile. L'altro nemico è la concupiscenza degli occhi, un'avarizia che porta a dare importanza solo a ciò che si può toccare. Sono occhi che restano attaccati alle cose terrene ma anche occhi che proprio per questo non sanno scoprire le realtà soprannaturali. Quando gli occhi dell'anima si annebbiano la ragione si crede autosufficiente per comprendere tutto prescindendo da Dio. il terzo nemico è la superbia della vita. Non si tratta solamente di effimeri pensieri di vanità di vanagloria e di amor proprio è uno stato di totale presunzione. Non incanniamoci la superbia è il peggiore dei mali la radice di tutti i peccati. Ricorriamo questa sera alla Vergine Maria perché ci ottenga di camminare sulla terra con gli occhi rivolti sempre al cielo. Sialodato Gesù Cristo e sempre saluto grazie a tutti. Grazie a tutti.